sono carico ma so che mi scaricherò presto qui c'è un drop, lì ci sono due wagons dobbiamo stare calmissimi ragazzi sono troppo nervosi merda eh oh eh vaffanculo ti piacerebbe buongiorno lei eh mi ha già afferrato la stamina può venire più in qua perchè c'è il suo amico dietro che spamma bombe e non mi piace vediamo se riesco ok se si colpiscono in testa si stanna no 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 non dobbiamo non dobbiamo essere impulsivi io non devo essere impulsivo però tu non devi essere figlio di puttana oh 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 io questi qui li odio però ho scoperto che quando sono a terra se si cambia stile si mette la spada a bassa logicamente si prendono meglio qui è morta tanta gente non è un buon segno eh cazzo se non levo oh che cozzo che cozzo maronna no dai ti mancava un colpo oh lei è molto nervoso che cazzo è sto schifo allora se lui non mi vede io faccio una bellissima cosa perfetto lo shortcut l'abbiamo aperto uccidiamolo però non di prepotenza no ho finito le frecce e no lo schioppo non vale la pena e vabbè però porca troia dai eh ho sbagliato io non è che io ho tolto tanto non ti devi arrabbiare vieni però preferisco l'ascia comunque però la velocità di risposta dei tasti è lenta in questo gioco devo tenerlo a mente ciao mi devo ricordare che quando fa quel cazzo di attacco poi lancia la manata e quando fa questo la ritira su porca miseria eh vabbè poi io sono recidivo dai eh vabbè però ma porca puttana di Eva schifosa eh non l'ho visto dov'è eh eh volivi oh ho preso la chiave quindi dovevo venire a prescindere da qua mi stai dicendo questo questa chiave non apre sicuramente oh si oh 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 ma io una cosa che non ho capito è devo per forza pregare al tempio altrimenti non non me lo da come checkpoint dico bene è una cosa che non voglio testare quindi pregherò non voglio combattere che cazzo è questo una pietra due pietre eh ragazzi mi si è spento pure il tempio beh sono pachidermici per essere se non gli vai sotto la spada voglio dire se tu non sei così ignobile da finire sotto la spada in teoria nananana 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 fammi prendere giusto per stare un po' più sicuro dai pachidermico però eh proviamo l'attacco pesante oh 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 quello era nuovo oh così ci sbrighiamo per capodanno si apre torna indietro subito se vuoi continuare a vivere se ne eri già al boss e col boss non posso certo provare il martello o si va bene non voglio vivere ok voglio morire nuè oh ciao quanto è cattivo questo boss quanto va bene va abbiamo capito com'è l'andarsi santa pazienza i fulmini che mi fottono devo trovare un altro equipaggiamento va bene mi sono cambiato armatura mi sono messo uno più resistente al fulmine vediamo eh ma io ne ho approfittato perché sono un vischero porca troia siamo troppo pesanti lo voglio battere in mutande se ci riesco e dai minchia ma proprio ce l'ho in pugno è mio dai però minchia con sta stamina io perdo per la stamina minchia io non lo so può non cattarmi se vabbè vieni pure tu ma porca puttana porca e vabbè però dai bene proviamo a petto nudo vediamo se cambia qualcosa no 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 mi sono messo no equipaggiamento pantaloni guanti e scarpe con la resistenza al fulmine vediamo dai 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 il fatto che non siamo è questa è un nuovo sta perc no 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 cercare di stare tranquillo e vai a morire ammazzato vaffanculo è morto si dio santo ma è possibile che devo morire così tante volte con un boss porca miseria e ora qui che non ci entro lì dentro col cazzo perché so che c'è un altro boss va bene abbiamo ucciso due io non voglio sapere il prossimo boss non lo voglio immaginare va bene per questo video è tutto ci si becca al prossimo ciao